Le negative è un libro straordinario perché non parla solo delle tendenze negative, parla di come si formano le tendenze negative, degli effetti che hanno e di tutto l'insieme delle circostanze mentali, emotive e anche in parte spirituali, cioè conseguenziali, di tutto l'assetto in modo semplice e pratico, cioè in poche pagine, che un libro secondo me quando deve dire qualcosa di tecnico come un manuale non deve essere raccapricciante da leggere, cioè non deve essere una follia da leggere, cioè complicato come se dovesse sembrare chissà che cosa, no, però non deve nemmeno parafrasare, allungare un brodo inutile solo perché dovrebbe essere un tot pagine, chi l'ha detta questa cosa, cioè le cose devono essere dette, punto. Siccome non sono romanzi, cioè si parla di qualcosa di tecnico, per cui sono stati spesi centinaia, se non migliaia di libri inutili, riassumere un concetto in poche pagine secondo me non è brillante, ma vale tanto quanto quei mille libri perché racchiude in poche pagine, in poco spazio, come un iPhone, cioè prima c'erano i computer, come si chiamano, insomma quelle lampadone, i computer occupavano dieci stanze per fare niente, oggi un computer occupa un nanometro e può fare quello che fanno cento di quelle là, un nanometro è meno di un capello credo. Questa è l'efficienza energetica, quindi sicuramente sottolineare i pregi di qualcosa, quando è vero va fatto e va fatto volentieri, che sia proprio o di qualcun altro, secondo me è completamente, comunque si parla di appunto le tendenze negative, di come si formano, quindi dall'infanzia eccetera, senza andare troppo nei particolari, perché nella vita di una persona comune, quindi di una persona che vuole vivere una vita felice, non sono importanti, cioè non serve arrivare a degli estremi tra l'altro inutili che non toccano, cioè come dire, io vado a vedere la partita di tennis per mangiare i pop corn, mi preoccupo dei pop corn più della partita di tennis, no, quindi il libro è un riassunto, è una sintesi, una semplificazione estrema, estrema, come tutti quelli che scrivo, perché secondo me è giusto, quindi che si allungo mille pagine, se il concetto si può resumere in una riga, non capisco perché non possa essere fatto, libri su libri, insomma, non voglio parlare male dei libri, non mi interessa più, ho detto quello che volevo dire a riguardo. E' importante perché, come ho detto anche in un altro, le tendenze negative non solo esistono, ma sono molto spesso inconsapevoli, cioè le persone tendono a nascondere le proprie tendenze negative, loro stessi spesso non ne sono consapevoli, che hanno verso il padre, la madre, la famiglia, il mondo, il paesino, chiunque sia. Quando una persona comincia a coltivare certe tendenze, nasce in lui il desiderio o di vendetta, o di rancore, o di rivalsa, o di prepotenza, o di potenza, o di violenza, eccetera. Cioè la conseguenza naturale come un cane che viene attaccato nel cervello rettile, rispetto, il cervello rettile è la parte meno evoluta dell'essere umano, che è quella di subire un attacco, è scappare, attaccare, inibirsi. Quindi tra tutte queste sfumature di queste grandi macro aree, attaccare, fuggire, inibirsi, e difendersi, l'essere umano vive. Quando vive lì tendenzialmente non è un essere umano, è meno di una creatura naturale, meno. Sviluppa malattie, sviluppa malattie mentali, non riesce a vivere relazioni sane, non riesce a godere fondamentalmente, non riesce a essere felice, può avere problemi di varia natura, perché l'essere umano è un'entità complessa, cioè un'entità spirituale forte, non debole, forte, molto forte. Quindi se ha una tendenza negativa, chi più chi meno, se la coltiva con sufficiente intenzionalità, chiaramente a un certo punto si troverà gli effetti nella vita. Allora tu dici, ma com'è possibile? Molte persone ne sanno queste cose, molte no. Perché i pensieri sono creativi, l'essere umano è creativo. Il negativo, che è meno forte del positivo, ma è comunque nel nome della libertà una possibilità di vivere la vita, è coltivabile e quindi crea degli effetti. Se inconsciamente uno si porta agli effetti, i rancori, i dolori, le ferite, come le chiama qualcuno, ferite, eccetera, verso l'appartenenza, le chiamo appartenenza perché può essere la famiglia, può essere chi che sia, se quel dolore non è riconosciuto, quel dolore comincia a creare degli effetti nefasti, tali e quelli che ho elencato, tra cui ricchezza anche economica, perché la ricchezza economica è la derivata anche della vibrazione e del sentimento e dello stato di benessere dell'individuo. Quindi, se questi macigni, come li chiamo nel libro, bloccano il fiume della tua esistenza, questo, ovviamente, è un problema, è tale quale. Il narcisista, il depresso, tutte queste robe, libri infiniti, non servono a niente perché l'unica cosa importante da sapere è la seguente. Non si può affrontare un trauma con lo stesso modo che ha creato il trauma, cioè non è che puoi vendicarti e pensare che tutto si risolva. Non puoi fare il male sperando nel bene per te, non funziona così, perché la psicologia, tra l'altro, ignora un'altra regola fondamentale, quindi, in nome del benessere umano, questo va detto, e va integrato tranquillamente nell'ambiente psicoterapeutico, che l'essere umano riceve quello che dà. Quindi, Gesù Cristo non è separato dalla psicologia, la psicologia non è separata dalla spiritualità. Se Gesù ha detto duemila anni fa e provatelo sulla vostra pelle, se avete le palle di farlo, io vi consiglio di farlo e basta, perché poi è la cura in sé, di amare. Un uomo riceve quello che dà. Questa è la legge. La psicologia o la cura dell'individuo non può essere separata dalla legge. La legge è il funzionamento dell'universo, quindi, siccome la psicologia è un sottoinsieme del funzionamento dell'universo, se si separa dal funzionamento di se stessa, tu dimmi come puoi risolvere, in qualche modo, i problemi degli individui. Quindi, che cosa ha fatto la psicologia? È andata a cercare tutti i problemi che c'erano nella mente delle persone. Risultato? Niente. Psicofarmaci, cure che non finiscono mai, tentativi su tentativi, da un certo punto di vista, probabilmente qualcuno parla di amore o di perdono, eccetera. Ma il punto è che non solo non è integrato con la legge, ma è come una sorta di ripiego quando i tecnicismi non funzionano o non si riesce a capire esattamente come integrare un individuo nella società in qualche modo quando non si capisce niente di com'è l'effetto l'essere umano. Niente. Quindi, la psicologia o la psicoterapia, che è la cura di se stesso, non deve durare anni, deve durare il tempo che l'individuo ha intenzionato a guarire, deve essere tendenzialmente un diritto dell'essere umano. Cosa significa? Un diritto è sapere come funziona la vita. Cioè, se quando tu metti qualcuno al pilota di un'automobile, gli insegni e gli dai la patente dopo che hai imparato a guidare l'automobile, se tu porti qualcuno che non sa guidare la sua automobile da uno psichiatra e tenti di insegnarglielo in qualche modo quando non lo sa nemmeno lui, questa è una follia. E infatti, tendenzialmente, i problemi non vengono risolti. Perché? Come ho detto nel libro e anche in altri libri, e come dico sovente, la vita e la psicologia sono connessi. L'uomo non è separato dalla vita. Non puoi risolvere un problema psicologico lontano dalla vita per ciò che è e il suo funzionamento. Qualcosa che funziona bene come un albero funziona bene non perché vado al psichiatra, perché è connesso a ciò che funziona bene originariamente. Perché funziona bene originariamente? Perché è un progetto che funziona bene. ha delle radici, è una stabilità, è una solidità. È una perfezione come è l'uomo che è ridotto malauguratamente a finire da un psicologo come se fosse una sorta di schifezza che scivola lungo le spiagge, le soglie, gli interstizi di questo pianeta. Quando in realtà è la creatura di maggior prestigio di questo pianeta. Non ti sto dicendo che non devi essere depresso, ti sto dicendo che tu sei la creatura di maggior prestigio del pianeta, tu, chiunque tu sia. Questo è il fatto. E sei meno di un albero che è più in salute e felice di te. Cioè, rendiamoci conto quanto lontano sei da te stesso e dalla verità. se un uomo è intenzionato a rinunciare alle intenzioni negative, alle direzioni negative che per via della legge di causalità poi si ripercuotono sull'individuo come puoi separare la psicologia dalle leggi universali cercando di non puoi se non per il caso è cambiare la direzione di ciò che fai, di ciò che sei. Se tu continui a sbagliare e non sai neanche che cazzo stai sbagliando, è ora di farsi una domanda. sono andato qui, sono andato lì, sono andato lì, ma non sei stanco di aspettare ora di una risposta che sia vera e efficace. La risposta vera e efficace è costa meno di metà di una seduta, infatti è ridicolo per il valore che ha, certi vendono prodotti a mille, tremila, diecimila, centomila che non servono a niente perché non risolvono e non dicono la verità. Non te lo sto vendendo, io te lo sto regalando. Mi vergogno quasi, cioè non so come dirtelo. Quindi siccome si può fare, non ti serve l'aiuto di qualcuno necessariamente. Se qualcuno solo e solo vuole vedere gli effetti altrimenti che rimanga nelle sue convinzioni. l'unico qui l'unico oppure